...video su Vine, tutti devono vedere, ma noi non è che siamo particolarmente favorevoli alla viralità del nostro materiale, però per te possiamo fare un'eccezione. Eccolo, il goal di Jonathan, richiestoci dall'amico non leggerlo, che salutiamo, salutiamo anche tutti quelli che magari vedranno questo video virale, se dotato di audio, le richieste via Twitter, le esaudiamo sempre molto molto volentieri.